Allora ragazzi, adesso piazzo il treppiede con la telecamera, prendo la racchetta, faccio io due scambi con Francesco e poi facciamo una cosa simpatica. Mi ammazza! Ok ragazzi, inizia! 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 A presto Grazie. Grazie a tutti 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 Ok ci siamo riscaldati Adesso facciamo un diagonale Quando voglio io cambio direzione E si apre il punto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti